comunissime pratoline che tutti noi conosciamo molto bene in questo periodo i prati i giardini ne sono pieni sapevi che si può mangiare assolutamente sì puoi arricchire i tuoi piatti primaverili le tue messicanze le tue insalate con questo meraviglioso fiore tra l'altro ha proprietà simili all'arnica e puoi realizzare un oleolito e con questo un unguento per dolori articolari in particolare cool pepper la consigliava per i dolori al torace buona raccolta